Engagement e solidarietà, un binomio che piace molto ad aziende e consumatori. L'ho messo in pratica Amazon, con Amazon Smile, aprendi una pagina web in cui le ONG si possono iscrivere, saranno poi clienti a selezionare le più meritevoli. Lo stesso sta facendo Kinder, che ha scelto lo sport come tema, invitando le associazioni sportive a registrarsi e clienti a votare le loro preferite sulla patina di Facebook Kinder più Sport più Click, destinati 40.000 euro ai primi 5 classificati, un po' social, un po' marketing, solidale senz'altro.